Giornalisti convocati due ore prima della conferenza, in tutta fretta, per comunicare l'aumento agostano del biglietto dell'autobus. Tutto previsto, tutto regolare, dicono gli amministratori pubblici, quasi una noiosa pratica da liquidare in tutta fretta per dedicarsi a cose ben più importanti, come inaugurazioni varie, presentazione di nuovi autobus ecologici e via discorrendo. Si scherza, ma non troppo. Dal primo agosto infatti scatta l'aumento di 20 centesimi per il biglietto di una corsa singola da 1,30 euro a 1,50 euro. Più salato sarà il rincaro del biglietto acquistato a bordo del mezzo, pratica magari più in voga tra turisti e forestieri, che sale da 1,50 euro a 2 euro. Il CityPass urbano salirà invece da 12 a 14 euro. Non aumenteranno invece gli abbonamenti mensili e annuali. Negli ultimi sei anni non sono mai state adeguate le tariffe, ma è previsto dal contratto, dice in conferenza stampa Marco Monesi, consigliere delegato alla mobilità della città metropolitana. Primo poi il recupero dell'inflazione andava fatto, spiega invece il sindaco Virginio Merola. Il biglietto bolognese, va detto, si allinea ad altre quattro città capoluogo della regione Emilia-Romagna, Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini, ma non mancano le voci critiche. Piccinini che attacca. Un aumento assolutamente ingiustificato, soprattutto se si tiene conto degli sprechi che l'azienda di trasporto continua a voler tenere in vita, come testimoni al caso del Fico Bus, mentre i soci di Tiper si divideranno la bellezza di 4,1 milioni di euro.